Buongiorno a tutti, con molto piacere che iniziamo i lavori di questo simposio sulla fauna selvatica. Grazie Beppe. E allora, quando ho invitato Beppe e a Ezio, anche a Luca Rossi, che non è potuto venire qui, per me è stato veramente un piacere organizzare un simposio nell'ambito della soipa sulla fauna selvatica, perché la mia prima esperienza sulla fauna selvatica è iniziata proprio a Torino con gli amici del VET06 di Torino. Quindi è veramente un piacere oggi iniziare questo simposio e presentare i lavori di ricercatori illustri come il professor Visente. E allora, siamo rimasti che presentiamo uno io e uno tu Beppe. E allora lascio la parola a Joaquin e ci presenterà la sua esperienza spagnola, penso sul cinghiale anche. Ok, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie molto. Grazie. Mi sono andato in inglese perché non parlo italiano. Sorry for that. Well, thank you to you for inviting me, to the organization, to the society. So, if you look to the title of the presentation, there are three parts, which are health management, interface, and the European scenario. This is too much to summarize in a very short time. Anyway, I will do my best. Maybe some of you expect I speak more about management or more about the characteristics of the interface. Well, at the end I try to speak a little bit of everything. Maybe nothing, maybe nothing of all, but something. So, just due to now, I come from the National Institute on Wildlife Research in central Spain, where I will perform research on different aspects related to the approach management of wildlife, particularly hunting species. And particularly, there is a group working on epidemiology and management of wildlife diseases, where places in Ciudad Real, close to Madrid, south to Madrid, where big gain, particularly small gain, too, is very relevant from the socio-economic point of view. So, I will address these four points today. The first is about a description, what is the interface, what we know about the interface. The third point is about specificities, but at the end it's so variable, the interface in Europe. So, I will try to provide an overview. And finally, I will try to tell you how we initiated research in our institute about this topic, how it was a process, which finally ends, or at the end you get the understanding to start to manage the interface with scientific basis. Most of what I'm going to tell you are already presented in this book. So, it's difficult to introduce the interface, particularly the wildlife-live-stop interface, because the consistence of both groups of animals happens across a wide variety of contexts. And this context is also changing. Just to let you know that about one-fourth of the planet's ice-free land is devoted or has potential to be devoted to livestock arising. This gives you an idea of the viability you can find in the planet and particularly in our continent. So, a typical definition of the interface is that they are a physical space where the home range of different species overlap and they can potentially interact. But, in practical terms, the interface is quite difficult to define when you go to the field and you want to study the interface. For instance, in many cases, the wildlife population are very, very heterogeneous. They are distributed in a very heterogeneous way. Some species are really mobile, like birds or bats. In other cases, the interface is mediated for vectors. So, you have to understand the interface like something dynamic in continuous change. To me, it's important to note that the interface is not the mere overlapping of different layers or different elements. But the interface has its own specificities. A number of properties emerge when different hosts, the environment, the pathogen and the human components meet together. There, at the interface, there is a rich diversity of resources. New niches, epidemiological but also ecological niches, are found by pathogens. Different hosts and pathogens interact with each other. So, the outcome of this is not a simple adding of different elements. So, typically, the elements we consider at the interface are the community of species. At the different sites of the interface, then you have a substrate. You have the habitat, the resources that this community, the different communities are using. Maybe you can include here vectors as an environmental factor. Maybe you can include vectors as part of the pathogen community. And, of course, there is a very important factor, which is how the local humans are involved in different activities and management in the area. So, at the end, the project of this interaction is interface. For instance, this is the National Park of Doñana. But, later, we will come back to this. So, today, what is clear is that humans, animals, animals are not just animals. We have wildlife, we have domestic animals, we have pets. Wildlife is not just wildlife. We have wildlife that is raised like farming animals. We have wildlife that are taking directly from the wild to the market. In some cases, this wildlife pass first through farm and then go to the market. In some cases, wildlife are managed in semi-intensive or extensive ways, for instance, hunting purposes. So, the interface, at the end, is an interface of different interfaces and it's difficult to isolate then. So, as a result, during the last decade, there is an increased interest on the study of animal interface. I mean, any interface where animals are involved. This is just a very simple review of a search in scientific browsers using different interface terms. And you can see that still the wildlife-live-stop interface is the predominant interface that is addressed by researchers. However, this graph was done just before the COVID-19 pandemic. If you make this exercise probably, you will change. You will find different results. And the human components in different interface will be more relevant. This is also what was done before the pandemic. But you can see here that among the top ten diseases of the wildlife-live-stop interface, addresses in the literature, trichinillosis, echinococosis, and toxopagnosis are included. The three types or more common interface addressed by literature are the birds-poultry interface. In many cases, this is linked to specific diseases. For instance, avian influenza and Newcastle, in the case of birds. In the case of mammals, the interface between cattle and other ungulates or carnivores are the most relevant in terms of frequency of studies. Particularly, echinococosis is addressed in these studies. And also, I forgot, for the ungulate interface, tail area is also relevant. Well, what about the characteristic of the interface after this introduction? Here, as we show you, this is very schematic representation of the reality, of course, just from a didactic point of view. We can see here the different characteristics of the different compartments of the wildlife-live-stop interface, and how it evolves from natural environment to human landscapes. So, you can imagine pristine ecosystems where the biodiversity still is high. The livestock did not arrive to these areas. So, the connection between human and wildlife is low, basically because not many humans are living there. And in this case, the main flow of pathogens are from wildlife through humans by the direct contact, by the direct consumption of meat. In a further step, when humans start to encroach the habitat, you have that biodiversity still is high, but decreasing. You already have only some cattle or livestock around. There is increased contact between people, livestock, and wildlife compared to the first situation. This is, for instance, typical in many developing areas of the tropics, tropical areas. Next steps, probably do start to identify more the situation we manage in Europe. The intensification of human activities continues evolving. There is loss of biodiversity. This is a historical process. Then, some pre-domestic species, or some wild species, which adapt very well to anthropogenic changes, are more frequent. Living stock is really relevant in these areas, both intensive, but mostly extensive. So, basically, you have all the ingredients in sufficient proportion and with the conditions to interact, okay? In this particular case. Also, wildlife become relevant as gain. In some cases, they do start to manage them intensively. Finally, we have totally managed landscapes, where the process of loss of biodiversity continues, where farming, livestock, obviously, is what predominates in the landscape. Because probably intensive farming is more common, there are less chance for interaction between wildlife and livestock, but still, it happens. And, anyway, wildlife is coming to us. So, this is why, in this particular case, contact with wildlife is increasing. So, probably identify this half, the left half of the figure in Europe. So, examples of what I commented, in some cases, human encroaching with livestock, wildlife, wild areas. In some cases, like in many areas of Europe, turbosites. There is a nice conceptual model developed by our colleagues from CIRAC. So, there you have the components of the wildlife interface. You have both sides. You have the land use boundary, which may be a physical barrier or not, or ad-management boundary. And you have humans everywhere. So, in the first hypothesis scenario, always, of course, there are simplifications. You have a very hard edge at the interface. For instance, you can imagine a fence, or you can imagine a river, which limits the movement of wildlife and domestic species. At the end, this is hard to find, because even when you believe the barriers are not permeable to wildlife, to some extent, they normally are, or lead to some wildlife. So, this is more theoretical than real, but, okay, may happen in some cases. So, the use of the resources are completely segregated. In this case, you have an asymmetric semi-hard interface. Normally, it's wildlife who is able to cross, to move through these barriers. One example is when wildlife enters in farms, even in intensive, closed farms. In the case of whiteboards entering in farm buildings to get to eat the food. As you know, this is an issue in different regions of Europe, particularly for tuberculosis. Then you have the case where the interface still is soft, but you have movement from both sides. Okay? So, they can cross the edge, and they explode commonly the resources in this area of the interface. This normally happens in many offensive, protected areas. You can see here, for instance, an image of Odoñana National Park. Finally, you have the diffuse interface. When the edge is not really clear, and the home range of wildlife and domestic species overlaps. Overup various tanks area. This is the particular case of flying species, bugs, birds. In some cases, the interface you can find with peridomestic birds in the cities. And this is even more complex. Because at the end, you have a gradient of different wildlife management and domestic animal management. So, they interact. For instance, you can move animals from extensive systems to intensive. Or maybe you produce piglets in intensive production, which is in contact with other intensive farms. You move mothers, for instance. You move genetics of animals. But then these animals are sold to people who put the animals in the field. In this case, to feed on the outcomes. So, this is not just an interface between wildlife and livestock there in the field. They carry up previous contacts with other animals, with other production systems. So, this is kind of interface of interfaces. Well, when you study the interface, you must take into account that the behavior of wildlife and livestock is different. This is obvious. But in most cases, you don't know if it is because this is intrinsic to them or because they are just avoiding human activities. So, they try to avoid the use of resources when wildlife is, sorry, when livestock is present or humans. For instance, wildlife in Africa tend to use the water holes during night time, okay? Because they have this specific behavior. And when the availability of water is high, they don't need to go to the same areas where they drink. So, they don't visit this water point at all. But cattle still does. Well, this is the same but a more complex assemblage of hops in Spain. But basically, this graph is saying the same. So, the interface normally is an indirect interface. So, you don't expect wildlife and livestock to be together all the time. They have direct contact, okay? And these direct contact obviously are very relevant and important. But normally, the interaction is indirect through the interface. like this or like this. Also, at the interface, you have diverse route of transmission of pathogens. This is variable depending on the pathogen. In some cases, you have vectors involved. And then, it's even more complicated to understand and to manage. In addition, it's important to know both for wildlife but also for domestics. But particularly for wildlife, not only how many of them are and where they are. But also, how they behave. What is their distribution? What is their aggregation? Which in many cases is determined by human factor. This has impact on interaction with domestics also in the internal and sharing transmission of pathogens. So, after that, I would like to summarize some major findings or characteristics for the wildlife livestock in our continent. Which is tremendously variable. As commented before, please move to the left side of this figure to have an idea. So, Europe also is a crossroad. Different factors and movement of animals and goods. There is a paper which identified that almost one-fourth of the European wildlife emerging infectious diseases had been introduced. So, the risk associated to the introduction is clear in our continent. You probably have been told about this trend in Europe in different meetings, etc. You know that in Europe, the rural abandonment, the growing woodland habitat and change in agricultural practice are impacting the wildlife. So, we have some species that are recovering like ungulates, some carnivore species. We have some species which normally were associated to traditional farming practices, which now are decreasing, particularly different small game species. We have some species that have adapted very well to these changes. So, they do very well in the wild or in the peridomestic and urban habitats. Like some carnivores or some bird species, etc. And they are relevant, obviously. As an example, you can see here the trends of the wild bird population in Europe. In this case, as the hunting bats collected from different countries. So, we estimate that in Europe, we had between 50 and 20 million wild birds. This, more or less, is one bird bird every 10 pigs in the continent. Obviously, it doesn't mean that every 10 pigs you had a wild bird in the middle, right? But, it gives you an idea about the magnitude. Another relevant point of Europe, as highlighted in this book by Ezio, is the presence and development of what he calls natural urban areas in Europe. And you had an example. Maybe this is your valley house, Ezio, where you can see that houses are spread all over the valley. There are many of them. Traditional activities have been, have decreased. Some species now, we mentioned before, are increasing around. So, this is creating the perfect condition for some species to infect, not only wildlife, but also livestock pets as humans. And obviously, to transmit pathogens. Very relevant to Europe, and probably is also, and will be in other continents, are the socio-economical and biographical circumstances. For instance, you know there is a trend about rewilding that, in many cases, is not, in my opinion, not quite understood. Recently, some bison, European bison, were released in South Spain, in any way, in a closed area. But, this is just one example. So, we are moving from the typical rural perspective, where in many cases, every wildlife is not desired. We are moving to a view from urban society, that not always is conservationist. In many cases, it is more animalist than conservationist. And this is also a problem to manage wildlife in general, and to manage the interface in Europe. This is an example of how relevant some particular cases, like TV in the UK, are for the society. And this is continuously in the media, and for most people, you intervene in these cases. And not forget that we are the historical source of animalism. Another important factor is that we are losing hunters, and they are essential to contribute to control the population. I am not saying that it is their responsibility, but they are crucial to do that. So, we need a lot of discussion, a lot of communication, a lot of education about this issue in Europe. Not only about the interface, but in general, wildlife management. is extremely variable, ranging from background, backyard production, extensive production, to really intensive production. All of them with their specificities in different sectors. And there is an increase in demand for high quality meat, friendly produce. And this also involves some risks. We don't have much time, but there are some groups of birds, for instance, that are particularly relevant to the interface for different cases. Here you can see some illustration of interfaces where birds are involved in the particular case of Spain. For instance, in picture number C, they are feeding on the rest of eggs in a farm. About mammals, the same, different groups, different relevance for different pathogens in different situations. Just to display some examples of different possibilities of interfaces for pigs with wildlife. You can see here the case in the Pigenians, in central Spain, in Sardinia, and in Doñana National Park. The same for other ungulates. You can see in the bottom, four pictures of different species just leaking the sign, a square centimeter of the lung for some water. Indirect, but almost direct interaction. So a problem that we have in Europe is that when you want to assess the distribution of the interface at the European, even at national level, you need quality data on the distribution of the species. And we don't have the policy in Europe to share the data at the needed resolution. So in some cases, even we have better information for wildlife, for instance based on hunting statistics, than for livestock. So when you try to do something like that to defeat the interface, okay, you can do something. But these maps are really not very good. This map is representing the assemblage, the total number of wildlife ungulates in Europe. Just to provide you an example of why we are progressing on better understanding the distribution of the animals and the interfaces in Europe. So when you try to demonstrate that with some species, with domestics, you cannot represent at the same resolution, you can do that here on the left. But you need to do that. You lose resolution because we don't have the good data. We don't share, we have the data, but we don't share this data at European level. So here you can see the different interfaces between cows and different wildlife species in Europe. There are important gaps in the maps, basically because we don't have the data about livestock. We are to finish my presentation. I will address some aspects of management. So, nowadays, during the last two decades, we have a new set of tools that are useful to understand better the interface. We have molecular biology. We have a lot of methods coming from ecology, behavioral methods, different devices and technology that you can put on the animal to study their behavior, how they interact. We also have new analytical tools because the problem is that in some cases you generate a lot of information, a lot of data, and then you don't know how to analyze this data. However, still we need basic data. We still need to go to the field to collect data on the distribution, on the abandonment of hosts, on the prevalence of pathogens, on determining the pathogens, because in some cases we don't know where they are and in which species. Because of the complexity of the interface is difficult to address the study of the interface. So, first you need which is your community and which kind of pathogen you are interested in, because depending on that you have to design your study. For domestic animal, okay, it's good. You can sample them, you can capture them, you can put whatever you want on them. But about wildlife, it is difficult. You have the problem. But we can manage. So, it's important we need to know information about the hosts who are involved, at least to figure out which could be or where the interaction that occurred between them. We also need to have clear if the environment or the vectors, for instance, are relevant to us. So, only after you have this previous understanding, you are in conditions to design and to develop your study at the interface. So, this is basically the sequence we had developed in my institute. I can say to you that we did not plan this at the beginning. When we started to work at my institute, we just started to identify which pathogens we found in different hosts, which is the epidemiology. But we realized that we needed more to understand the whole system. So, in order to understand the ecological and epidemiological complexity of the interface, you need to know very well which processes are happening there. Which pathways and transmission rates are there. And for that, epidemiology, parasitology, pathology, etc. meet or need to meet ecology. Ecology is able to provide us quantification of the animal abundance, the behavior. Even we can dig into the evolutive aspects that are also happening at the interface. Which also are very, very relevant. Only after that, you can start to think about management. It doesn't mean that at the very first stage, you can start to intervene. After that, we realized that we need also the socio-economic component. And next, to finish my presentation, I will only show you some pictures of our circumstances in south-central Spain. Okay? So, in most of south-central Spain, the habitat is Mediterranean, relatively similar to here. In lowlands, extensive farming is practices in areas very close to hunting stage. So, anyway, this is not a simple. Different interfaces in different environments are present there. Water ecology is really important because it's where animals aggregate in most of the year. For instance, in my province, you can compare here the relative number of wildlife and livestock. So, you can see that wildlife is relevant in numerical terms. We want nice information about hunting statistics, living stock distribution, even the type of production, if extensive, outdoor, indoor, etc. So, we can depict very nice maps about where you expect, at least when you overlap the abundance, the interface. However, this is just spatial overlapping. Then you have to go to see the spatial circumstances there. So, we have areas where intensive production is more typical, with less chance for interaction. But we have areas where extensive farming is more common, and then there are more chains for interaction. For instance, in this corner of Spain, we have a lot of small, familiar, they are commercial, they are legal. They are not backyard production, but they are small, familiar farms, and probably there is some risk on that. So, the host community is complex, and we have applied a number of methods, which today we don't have time to see in detail, to study the interface. This includes environmental sampling to detect pathogens. In this case, the mycobacterium tuberculosis complex. Behavioral studies, here we are addressing how they use salt blocks. We quantify the number of interactions by different methods, the camera tropics, by capturing wildlife and biologics in them. Then we can analyze the spatial interaction between species. We can depict where the interface is in the map, how the interface changes over time. Even with proximity logics, you can quantify very precisely the number of contacts they have between them and between environmental features. You can then model the epidemiology of pathogens like networks. We are also starting to use in some areas drones to see the distribution abundance and interaction between wildlife and livestock. Some results. And only after that you can start to manage. Finally, I only will tell you that now we have developed in Spain biosecurity programs that are farm specifics for cattle and for pigs. So, this is standardized. There is a protocol. You can transfer this protocol to veterinary services and they can elaborate on a specific biosafety plan depending on the circumstances that they found there. But this is another story that I would like to tell you in a different talk. So, for now, thank you very much. Thank you very much. Ci sono domande per Joaquin? Ok, ne avrei una io. Joaquin, you are talking about the collection of data from, I think, wild boars or from different animal wildlife. So you have data only for wild boars or for roe deer or red deer from Spain about the number of animals that are collared or some other information? Yeah, well in Spain data collection is not easy because it works mainly maybe some similarities to Italy. There are different regional governments and they are responsible on this data collection. Particularly they collect data on hunting bugs at hunting ground level. So at least the minimum denominator we have for every region in Spain is that we have the number of animals that are hunted by hunting raw and deer. And this is for big game. Data collection for small game is not the same. Also the type of hunter, the way they hunt is different. So it's more difficult to get this data. In some regions of Spain they also collect data on collected hunts about how many animal they see, what is the surface they beat. So you can estimate something similar to a density in terms of number of animals per surface. So we are trying to move the system toward this in order to improve the information. However, this is very good. If you compare with the standards in Europe, the information we manage in Spain for big game is very good. Thank you. Thank you. Thank you. Do you have information only of number of animals that are collected or there are some bats that perform a meat expression and some information about infection, parasitic disease? Do they have specific data for this disease? Normally, the only information we have was about trichinillosis in World War. And how you say, when you retire from consumption of animals due to different pathogens, then you can see the result in the report elaborated by veterinarians. For instance, tuberculosis in most of the cases, right, or they only mention excesses in the animal. This is not good for consumption. It's the only information that we normally used to have before. Now, since a few years ago, there is a national plan on wildlife surveillance in Spain. Not only for hunting species, but in general for wildlife. And then the regions are collecting data for certain species in certain areas. The sampling more or less is stratified and using certain techniques, diagnostic techniques that are established by the program. And this system is improving and improving because we are just starting. So, there is a national plan for health monitoring. It's national. There are veterinary from public service? Yes, but the plan is implemented by the regions. So, they belong to public health authorities at regional level or animal health authorities. It depends. Okay. Thank you. Thank you. C'è qualche altra domanda su questo argomento? Thank you, Mr. Schneider. Thank you very much. Thank you very much. domande subito al termine di ogni esposizione è dovuta a un fatto contingente. Abbiamo la mente fresca, ci ricordiamo quello che ha detto il relatore, facciamo la domanda e abbiamo una risposta. Questo implicherà che alla fine non ci sarà discussione e dico questo per tranquillizzare la dottoressa Messina, anche l'ho già vista facciarsi una volta sulla porta guardando di qua, la quale ci ha ricordato pochi giorni fa con una mail chiara che dovevamo in quanto moderatori far rispettare i tempi. Siamo già partiti con il solito ritardo che contraddistingo e direi che me ne faccia anche un pochettino un vanto in quanto mediterraneo i convegni che vengono tenuti sulle coste di questo mare. Vediamo per quanto possibile di recuperarlo e per questo io non sto a perdere tanto tempo nel presentare il prossimo relatore. Dico soltanto che un caro amico che probabilmente in questa sala è l'unico a non essere parassitologo e so che per sua consuetudine da me molto apprezzata si presenta al pubblico che lo ascolta tutte le volte che ho avuto modo di sentirlo parlare quindi lascio che sia lui a dire chi è e che cosa fa nella vita. Sandro Nicoloso ha la parola. Buongiorno a tutti. Per prima cosa voglio ringraziare il professor D'Amerchiano e il professor Melius per aver invitato a questa presentazione in questo prestigioso contesto. Sono Sandro Nicoloso, friulano d'origine, toscano d'adozione e di fatto faccio il tecnico faunista con particolar riferimento anche alla gestione diretta degli ungulati selvatici, ma non sempre. Lo scopo della presentazione di oggi è quello di fornirvi un quadro conoscitivo di quello che è lo status degli ungulati illuminanti selvatici, come dice il titolo, nel centro-sud Italia. Parto subito con la presentazione. Non so se la vedete. Se posso avere un riscontro. Perfetto. Grazie mille, allora parto subito. Parleremo degli ungulati illuminanti selvatici del centro-sud Italia, che sono quelli che vedete rappresentati in questa prima slide e trascureremo quindi solamente quelli tipicamente alpini, quindi lo stambecco e il camoscio delle Alpi. Partiamo col più grosso cervide italiano, il cervo autottono per l'Italia. Vedremo perché è opportuno sottolineare questo aspetto. La sua distribuzione nel 1750 è quello che si osserva in questa tavola. In un contesto poi successivo, in un articolo che compare nel Cervo europeo del Castelli del 1941, una delle prime Bibbie, mi permetto di dire, in materia a livello italiano, che però lascia un segno molto particolare, che fa un quadro conoscitivo dell'Europa per quanto riguarda la distribuzione del cervo, andando a interpellare tutti gli stati europei, avendo da tutti questi stati europei una risposta in termini di distribuzione e consistenza, cose che a volte facciamo fatica a fare nei tempi attuali. all'interno si trova una frase abbastanza particolare di questo dottor Peloni che parla della caccia in Valtellina, dove dice, ma giustamente mi diceva una guardia svizzera con la quale mi fermai un giorno sui confini a scambiare due chiacchiere, se povero cervo, se stambecco, se scavalcare confini per l'Italia, caput, morto. Questo rappresenta il quadro conoscitivo che avevamo del Cervo all'epoca, con di fatto delle popolazioni che stranamente rispetto all'immaginario collettivo non riguardano zone montane o zone alpine, ma riguardano zone a ridosso del mare. Si vede le popolazioni sarde, si vede quelle del Cervo della Mesola, se ne vede un'altra in Istria ai tempi considerate italiana, ma prima dell'aggiornamento, diciamo, dei confini in seguito ai conflitti bellici mondiali e un unico piccolo spot in Val Venosta. Questo è lo status del Cervo in Italia nel 1950, quindi pochissime presenze. Dopodiché abbiamo un rapido, relativamente rapido incremento, a partire in particolare dalle Alpi, dove c'è una espansione d'oltre Alpe prevalentemente, e alcuni nuclei nell'Alto Appennino ovviamente di origine artificiale. Sono stati numerosissimi gli interventi di reintroduzione del Cervo, quelli dell'Alto Appennino provengono da Tarvisio, alcuni dalla Bohemia, altri e poi da queste popolazioni per almeno un decennio ci sono state numerosissime reintroduzioni nella direzione dei principali parchi nazionali del centro e del sud Italia. Quelle che vedete sono solo quelle che abbiamo fatto noi dalle foreste edemaniali dell'Acquerino. 1980, 1990, 1998, 2010, banca dati ungulati dell'ISPRA, dove si vede l'evoluzione, in particolare dei gruppi del centro Appennino e del nord Appennino, e questo è l'ultimo aggiornamento, di fatto non ancora pubblicato, ma dovrebbe venire a breve, dell'Atlante, dei mammiferi italiani, dove si vede che praticamente non c'è più soluzione di continuità in tutta la dorsale appenninica e anche alcune popolazioni del sud, in particolare quelle del Parco Nazionale del Cilento, Valli di Diano e del Massiccio del Pollino, cominciano ad avere areali e consistenze piuttosto importanti. In questa diversa rappresentazione si vede l'evoluzione della popolazione anche in funzione dei periodi in cui la specie ha iniziato a essere prelevata, quindi a essere cacciata dal punto di vista faunistico-venatorio. Solamente nel 2000 a livello appenninico, nel 2010 ormai si caccia dappertutto e questo mi preme sottolineare che la notevole espansione della specie non è stata limitata dal prelievo venatorio, che in quanto tale non necessariamente è in contrasto con la conservazione. Siamo nel 2021 e le nuove prospettive sono proprio per il centro Italia, dove si auspica un avvio della pianificazione di questo prelievo, anche perché come vedremo più avanti ci sono dei forti conflitti con altre specie di maggiore interesse conservazionistico. In Italia, oltre al cervo europeo, abbiamo il cervo sardo, considerata a tutti gli effetti una sottospecie, indagata in modo particolare con un recente Life Plus, vedete l'evoluzione e la quasi totale scomparsa con l'estinzione in Corsica della specie, situazione invece attuale molto più confortante, con 13 nuclei distinti in Sardegna, con oltre 6.000 capi nel 2013, quindi un dato ancora in aumento sicuramente, e oltre 800 capi in 6 popolazioni in Corsica, dove vi ricordo era estinto dal 1980. Siamo al punto in cui in particolari contesti ci sono delle forti tensioni sociali con i classici contrasti fra le parti sociali che vivono direttamente la pressione del cervo e quelle che invece vorrebbero che il cervo o comunque tutte le altre specie non venissero mai toccate. Però una rapida ricerca su qualsiasi social o qualsiasi motore di ricerca vi permette di vedere qual è l'attenzione in questo momento. Abbiamo un altro cervo in Italia, che è il cervo della mesola. Ho messo i punti di domanda sulla voce italicus, per cui, semplicemente perché mentre a livello internazionale viene riconosciuta la sottospecie sarda, per quanto riguarda il cervo della mesola, unico relitto delle popolazioni storiche, non è ancora così distinta a livello di sottospecie, però viene comunque considerata un'entità faunistica molto rilevante. Si trova nel delta del Po, in una riserva naturale, e ha subito nel corso degli anni una fortissima pressione da parte del Daino, presente in oltre mille esemplari alla fine degli anni 80, primi anni 90, e con la popolazione ridotta a meno di 40 esemplari, con fertilità ridottissime, incrementi bassissimi. La soppressione, l'eliminazione quasi pressoché totale della popolazione di Daino ha permesso al cervo della mesola di recuperare. C'è un preciso programma nazionale di conservazione della specie, che aveva già individuato tutta una serie di aree protette per creare delle nuove popolazioni ex situ per la sua conservazione. Vi posso aggiornare sul fatto che in questo momento c'è un progetto approvato e finanziato, a partire dal 2022-2023, con dai 60 agli 80 capi che in tre anni verranno traslocati. Non vi dico ancora di preciso dove, perché la notizia è ancora in fase di definizione. Parliamo del capriolo, autottono anch'esso per l'Italia, distribuito in modo pressoché uniforme in tutta Italia, compresa la Sicilia, dove era stato introdotto in tempi storici. Anche in questo caso, vedete, 1850 la popolazione si riduce in modo molto drastico. arriviamo al minimo storico, probabilmente attorno al 1950, dove anche nelle Alpi non c'è una distribuzione omogenea e ci sono micro popolazioni sparse per l'Italia, compreso al sud. Nel 2000, prima banca dati ungulati Ispra, abbiamo un notevole incremento della specie. Nel 2010, osserviamo anche l'interruzione della soluzione di continuità tra l'areale alpino e l'areale appenninico e anche i nuclei del sud Italia prendono forza. Questo, che ritengo sia abbastanza straordinario come risultato, è l'aggiornamento al 2021, dove in azzurro vedete gli areali di più recente colonizzazione, magari anche a bassa densità, però si vede che il capriolo non si può dire che abbia recuperato quasi tutto il suo areale distributivo originario, ma ha fatto veramente parecchia strada. Abbiamo, così come avevamo visto per il cervo, il capriolo italico, anche in questo caso non c'è omogeneità, diciamo, di pensiero, se elevarlo o meno a livello di sottospecie, però vedete che le analisi genetiche effettuate evidenziano come l'origine del capriolo italiano abbia ceppi diversi, la maggior parte dei quali ovviamente riconoscibili perché sono stati moltissimi i progetti di reintroduzione anche avvenuti da paesi nordici o dalla Francia, tenendo conto anche del fatto che il capriolo, contrariamente a quanto magari ci hanno insegnato a scuola, che potesse avere un incremento definito di K-strategia, in realtà ha una crescita a irruptive behavior definita, cioè cresce moltissimo non rendendosi conto, passatemi il termine, che ha raggiunto la capacità portante, la oltrepassa abbondantemente per poi crollare. Questo ha determinato in molte aree d'Italia anche una crisi del capriolo perché è sottoposto a piani di gestione, a piani di prelievo venatorio in una fase in cui si credeva che quelle altissime densità fossero normali e non derivate da questo modulo comportamentale. A livello italiano avevamo tre nuclei storici, relitti post-glaciali del capriolo italico, nella tenuta presidenziale di Castelporziano, nella foresta Umbra del Gargano, attuale parco nazionale, e nella foresta dell'Orso Marso. Nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per la sua conservazione, realizzato attorno al 2008-2010, grazie a indagini genetiche è stato però possibile individuare nel Senese e nel Grossetano la presenza di caprioli italici, in popolazioni abbastanza isolate, apparentemente integre, ma ovviamente minacciate di ibridazione per essere molto a stretto contatto con popolazioni europee. Da questi nuclei abbiamo messo in atto il primo, diciamo la prima azione di reintroduzione di capriolo italico nel Parco Nazionale della Spromonte, scelto perché era l'areale più a sud di qualsiasi altro areale di presenza di capriolo europeo che ha permesso di portare dall'Alta Toscana 75 fondatori dal 2009 al 2011 e che oggi permettono di osservare questo areale distributivo, avvarcato ormai da molto tempo i confini del Parco Nazionale ed è ormai una presenza più che consolidata, ricordando anche che il capriolo in quel contesto, oltre ovviamente alla reintegrazione della specie, ha permesso anche di ricostituire catene alimentari e quindi indirettamente favorire la conservazione del lupo distogliendo l'attenzione del predatore nei confronti del bestiame domestico. Camoscio meridionale, rupicapra pirenaica, anch'esso autotono per l'Italia con la sottospecie ornata, questa che vedete è quella che si crede sia la massima distribuzione storica, quindi sostanzialmente dai Monti Sibillini al massiccio del Pollino. Anche per quanto riguarda il Camoscio d'Abruzzo abbiamo un piano d'azione nazionale e grazie a un recente live è stato possibile ricostituire nuove popolazioni che sono cinque in questo momento, quella storica del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, con circa 675 individui dati del 2020, 1500 individui nel Parco Nazionale della Maiella, 1200 individui al Gran Sasso Monti della Laga, il Parco Nazionale dei Sibillini con circa 250 individui e infine il più recente con 60 individui nel Parco Regionale del Sirente Belino. Il Daino. Il Daino per quanto riguarda il contesto nazionale è considerato para-autottono alla strego di tutte le specie che sono state introdotte dall'uomo per scopi ornamentali o venatori in data antecedente al 1500. La situazione attorno al 1900 è quella che vedete, quindi col Daino distribuito pressoché ovunque in Sardegna e solamente però poi, scusate, estinto negli anni 60, poi nell'ex tenuta presidenziale di San Rossore nel Bosco della Mesola dove abbiamo visto cosa ha comportato in termini di conflitto con il Cervo e a Castelporziano nella tenuta presidenziale. Non ho l'aggiornamento ultimo, questo è quello del 2010 della Banca dati Ungulati, pressoché vedete assente nell'arco alpino perché non sopporta, come sappiamo, climi rigidi, però distribuito in modo molto puntiforme in moltissime aree d'Italia dove è stato portato con moltissimi progetti di introduzione prevalentemente per scopi venatori oltre che ornamentali. Le linee guida nazionali per la gestione del Daino prevedono che sia possibile conservare i nuclei storici dell'ambiente mediterraneo di cui vi ho già parlato e quelle ormai diciamo storiche dell'Appennino centro-settentrionale sulle quali però è previsto il congelamento dell'areale e quindi i piani di prelievo devono far sì che non aumentino né in termini di consistenza né in termini di areale e che qualsiasi nuova fuga da recinto o introduzioni abusive vengano prontamente rimosse. La stampa parla moltissimo ultimamente di questi piani, il Daino è in molte zone fuori controllo, c'è un piano di gestione nella foresta demaniale del Parco Nazionale del Circeo contestatissima, questo è un articolo dove l'ultimo presidente del Parco a San Rossore propone la sterilizzazione delle specie, considerate che questi sono i numeri, gli ultimi dati disponibili per gli abbattimenti con oltre 2200 Daini tra abbattuti direttamente e catturati e traslocati per essere destinati all'abbattimento in aziende faunistico-venatorie e altri problemi come ad esempio in provincia di Ravenna dove i Daini stanno creando anche moltissimi conflitti anche sulla viabilità con incidenti purtroppo anche con conseguenze letali. Abbiamo infine o meglio quasi infine la capra di Monte Cristo le cui prime domesticazioni sappiamo risalgono a oltre 10.000 anni fa nella fase in cui l'uomo da cacciatore e raccoglitore si trasforma in allevatore e agricoltore non più recenti negli alti piani dell'Iran occidentale presente sulle sponde del mare già dal nono ottavo secolo avanti Cristo compare successivamente in queste aree e poi sia per mare venivano lasciati gli animali dati storici ci dicono che venivano lasciati sulle isole anche come scorte alimentari durante i viaggi e anche sfruttando però il percorso del Danubio e lo troviamo tra il VII e VI secolo avanti Cristo nel mare Tirreno e Mediterraneo quindi in poche parole non è un animale selvatico propriamente detto ma risale alle fasi iniziali del processo di domesticazione degli animali attualmente quindi l'unica popolazione in Italia che abbiamo ritenuta di interesse conservazionistico per la questione scientifica ma anche storico-culturale sul quale è stato anche realizzato un progetto LIFE è quello delle capre di Monte Cristo che sono state studiate in modo molto accurato anche per quanto riguarda le loro caratteristiche non solo genetiche anche ma di variabilità morfologica oggetto di riduzione numerica nel corso del tempo per evitare impatti devastanti sui fragili equilibri ecologici dell'isola e attualmente c'è l'unico nucleo ex situ con sei animali al bioparco di Roma in ultimo davvero il muflone anch'esso derivato da prime domesticazioni di Ovis orientalis nel Neolitico arriva tra il settimo e il sesto millennio in Sardegna e Corsica quindi anche lui deriva dalle domesticazioni degli animali e distribuito poi in tutta Europa e non solo comprese le isole Hawaii successivamente per scopi venatori ornamentali all'octono quindi per l'Italia quindi le linee guida dicono gestione non conservativa per tutti la distribuzione continentale ma una conservazione dove risulta particolarmente protetto anche collegio regionale per quanto riguarda in Sardegna proprio per motivi storico-culturali per quanto riguarda le isole italiane attualmente è considerato non solo autotono ma anche a specie invasiva specie aliena e in questo momento c'è in corso un progetto LIFE per l'eradicazione della specie attraverso anche l'utilizzo di animali judas mumiti di radiocollare secondo i protocolli internazionali più efficienti ed efficaci per la riduzione della specie mi scuso di aver esforato leggermente e vi ringrazio dell'attenzione ci sono domande nel pubblico io credo che per i giovani parassitologi che si affacciano a questa disciplina affascinante la relazione di San Nicoloso apre orizzonti infiniti orizzonti infiniti inimmaginabili già soltanto quando iniziamo noi che ormai siamo prossimi avete capito a cosa ci sono domande? io una ce l'avrei quando ho cominciato a occuparmi per Sandro naturalmente quando ho iniziato a occuparmi di far una selvatica segnatamente di un gulati il camoscio d'Abruzzo era un mito relegato o appenninico più giustamente dire il camoscio appenninico era relegato in un solo parco italiano e già ai tempi si parlava di poche centinaia di capi oggi scopro che in quel parco continuano a esserci poche centinaia di capi per fortuna al di fuori di quel parco con operazioni di traslocazione mi pare due conti rapidi che ci sia quattro volte il numero degli camosci che ci sono nel parco e mi chiedo perché e lo chiedo a Sandro allora lì mi fa piacere che sia saltato all'occhio che a parte quelli di recente nuova diciamo reintroduzione il parco storico sia quello che ne ospita di meno il parco nazionale d'Abruzzo il problema è molto semplice ci sono dei lavori scientifici a cui vi prego di fare riferimento del professor Sandro Lovari del professor Francesco Ferretti dell'Università di Siena che hanno analizzato in modo molto accurato il problema e in questo momento si ritiene che ci siano due concause una è sicuramente legata al cambiamento climatico dove una comparazione tra i soprassuoli degli anni 70 80 presenti in quell'area nell'area storica e confrontati con quelli attuali hanno messo in evidenza come la qualità del pascolo sia completamente cambiata in particolare vi sono delle specie che sono ritenute fondamentali non solo particolarmente importanti fondamentali per la capacità delle femmine di Camoscio di svezzare i propri i propri piccoli questa queste particolari specie erbacee si stanno spostando verso l'alto perché richiedono un clima particolare e quindi come in tutte le montagne più in alto si va meno spazio c'è e quindi le superfici destinate o meglio riservate a questo soprassuolo sono sempre più basse e sono state sostituite da specie erbacee non appetite di molto più basso livello qualitativo che però vengono utilizzate dal cervo che è il secondo problema in quell'area si trovano branchi anche di oltre 100 individui tutti assieme con una pressione sulla sul camoscio che è stato studiato anche in termini di tempo dedicato all'allattamento tempo dedicato alla sorveglianza tempo dedicato al pascolo mettendo in confronto aree dove il cervo è presente rispetto a aree dove il cervo è assente queste due quindi questa grossa pressione del cervo e queste diverse disponibilità alimentari stanno mettendo in grossa difficoltà il camoscio d'abruzzo nell'areale storico ci sarebbero dei piani di gestione il piano faunistico della regione abruzzo prevede già un contenimento numerico del cervo che ovviamente non è considerato l'unico elemento risolutivo per la questione però se andate a vedere vi invito andare a a leggere le pubblicazioni ci sono degli scenari piuttosto in alcuni casi anche drammatici rispetto a quello che potrebbe succedere per il camoscio d'abruzzo grazie vedo una domanda bene vedo chi vuole fare una domanda Rudy Cassini grazie beh sì sono Rudy Cassini Sandro intanto mi fa piacere ritrovarti qua dopo tanto tempo tu non credo che mi veda però mi senti giusto? sì sì ti sento ciao Rudy allora anch'io mi associo ai complimenti per la presentazione e al commento che è sicuramente interessante conoscere queste cose per noi parassitologi ma direi più in generale per noi veterinari o per noi che ci occupiamo di sanità e sarebbe cioè il fatto di sapere che animali il comportamento ma anche solo la consistenza di questi animali secondo me è fondamentale perché si occupa di aspetti sanitari della famola selvatica vita libera perché sarebbe come lavorare con un'azienda e non sapere quanti animali ci sono in stalla e mi chiedevo nella tua esperienza di tecnico faunistico che comunque si occupa probabilmente almeno in collaborazione con altri anche a volte di situazioni di aspetti sanitari cioè hai avuto a che fare forse con qualcosa di questo tipo e quali sono state le difficoltà e che cosa forse manca al veterinario o più in generale all'esperto sanitario diciamo quando affronta questi problemi dov'è che potremo in qualche modo migliorare nel nostro approccio secondo te allora secondo me molte volte c'è un eccessivo diciamo scollamento tra le diverse attività noi nelle nostre diciamo normali attività di gestione conosciamo ovviamente i limiti del monitoraggio ma ne conosciamo anche i pregi l'interscambio che però ci dovrebbe essere come la bellissima vista nella bellissima presentazione che mi ha preceduto di altissimo spessore dal mio punto di vista è quello di una mancanza a volte di dialogo faccio un esempio banale noi disponiamo di moltissimi a volte dati di radiotelemetria in consiglio in questo momento per motivi di esempio specifici che magari tu conosci più direttamente e questi dati vengono magari utilizzati solo ed esclusivamente per studiare magari il comportamento o per pianificare l'attività venatoria e viene trascurato invece l'aspetto proprio di interazione che ci può essere fra questi animali e la fauna domestica l'uomo in particolare quindi credo che sia solo una questione di comunicazione dal mio punto di vista di non lavorare a compartimenti stagni vedo una mano alzata complimenti innanzitutto per la bellissima presentazione che mi ha aggiornato sulla situazione degli ungulati io sono particolarmente interessato al discorso delle traslocazioni innanzitutto Deppe lo sa benissimo a suo tempo facciamo un documento specifico proprio sulle introduzioni e reintroduzioni però successivamente ho partecipato proprio a una delle traslocazioni del camoscio d'Abruzzo e ci siamo accorti abbiamo dimostrato scientificamente che anche in un recinto con una densità bassissima perché è quello in cui vengono messi gli animali prima di essere rilasciati nell'ambiente il numero di cocivi è aumentato nel giro di due settimane in maniera esponenziale e quindi questo significa esporre nessun caso clinico per fortuna esporre comunque gli animali a un qualche rischio sanitario e i cocivi sono un ottimo indicatore di una situazione di questo tipo voglio sapere qual era la sua opinione allora sì allora come ha detto il professor Menebus non sono non faccio il vostro mestiere personalmente ritengo che l'utilizzo di recinti nelle fasi di reintroduzione non sia più opportuna si parla di questa veniva definita la soft release cioè portare gli animali in un'area lasciare all'interno di un recinto che condivido perfettamente per quanto piccolo cioè per quanto grande per quanto con bassissime densità porta delle situazioni che sono sicuramente anomale a partire dalla traslocazione e reintroduzione del parco nazionale della Spromonte noi abbiamo adottato sempre solo ed esclusivamente hard release quindi non si ragiona più in termini di facciamo acclimatare gli animali perché non ha non ha senso poco senso dal mio punto di vista ma cerchiamo di avere molta più attenzione e cura nello studio preliminare di fattibilità e quindi dell'opportunità dell'intervento della traslocazione nella scelta dell'ideonità dei siti e poi gli animali vengono liberati direttamente in questo momento io sono coinvolto in due progetti uno per il capriolo e uno per il cervo della mesola che entrambi seguono questi principi quindi accurato studio della scelta dei siti di rilascio per poi far sì che gli animali vengano rilasciati immediatamente senza l'utilizzo di recinti grazie la pittaria condivisibile risposta buongiorno salve volevo fare una domanda se nell'analisi insomma studiando queste specie che stanno riconquistando le zone dove già c'erano in passato ad esempio il capriolo si è stato notato un cambiamento delle loro abitudini fisiologiche che possa comportare un maggiore rischio o un diverso rischio rispetto al passato per esempio nell'acquisizione di patologie o per esempio di parassitosi che sono abitudini alimentari nuove oppure una diversa adattabilità alle zone se hanno cambiato anche per esempio altitudine o areali dove si sono dove si stanno espandendo o riespandendo allora per poter rispondere avrei bisogno di sapere come si comportavano e cosa facevano esattamente prima di quando rioccupavano quella areale purtroppo noi disponiamo di dati storici per quanto riguarda la distribuzione ma non certo per quanto riguarda il loro comportamento quello che cerchiamo di fare attualmente è di raccogliere i dati nel modo più rigoroso e serio possibile e tutti i dati di radiotelemetria ad esempio li riversiamo all'interno di un grosso contenitore che è Eurodir adesso c'è anche Eurobor cioè una banca dati europea che racchiude i principali diciamo gruppi di ricerca dove per evitare campanilismi o dati chiusi in un cassetto tutti i dati vengono riversati in questo grosso contenitore il gruppo si riunisce si è riunito recentemente in Francia decide le linee di ricerca e questo ha portato anche anche questo ovviamente disponibile in rete a delle pubblicazioni che mettono in confronto il comportamento dei caprioli neurointrodotti in Aspromonte con quelli della Norvegia passando per tutti i gradienti europei in termini di comportamento anche rispetto all'uso del suolo e rispetto ai diversi ovviamente livelli di luce nell'arco della giornata e per quanto riguarda l'Aspromonte ha permesso anche una tesi di dottorato all'università di Ardwar per verificare come il capriolo ha rioccupato il suo spazio in un luogo dove era scomparso da poco più di un secolo e questo ha permesso la modellizzazione di alcune rioccupazioni secondo principi simili a quelli che erano stati adottati per verificare come il lupo avrebbe rioccupato il parco nazionale di Yellowstone e mi riaggancio alla domanda di Rudy credo che sia importante per tutti noi raccogliere i migliori dati possibili e poi avere menti fresche e giovani che siano capaci di tirarci fuori qualcosa di serio e di buono grazie Sandro mi vedo costretto per ragione di tempo e con la coscienza a posto perché la par condicio tra i sessi è stata rispettata nelle domande a bloccare qui le domande per Sandro Nicoloso e allora la prossima la prossima presentazione grazie Sandro grazie a voi per la tua presentazione e parlando di dati cedo la parola al professore Ezio Ferroglio che ci presenterà proprio sul sistema di dati europei nell'ambito del progetto Enetto Wild grazie grazie a voi per l'invito in realtà mi ero accorto che nel titolo mancava una cosa era un titolo affermativo in realtà ci manca un punto interrogativo perché io non sono così sicuro che Enetto Wild sia effettivamente la risposta europea alla gestione sanitaria della fauna ma qual è il problema quando parliamo di fauna il buono il brutto il cattivo noi siamo abituati a pensare che il patogeno sia il cattivo l'ospite sia il buono siamo concentrati sul patogeno ma ci dimentichiamo sempre che è un'interfaccia e dell'ospite spesso non sappiamo chi sono quanti sono e dove sono ed è chiaro che questo è un grandissimo limite un grandissimo vincolo quando si parla appunto di interazioni fra ospiti e patogeni per gestire bisogna avere dei dati questo è il volante di una macchina di Formula 1 sono incredibili siccome so che c'è il professor Poglien ho messo anche quello degli anni 50 così non lo metto a disagio ma perché ci sono tutti quegli strumenti e perché noi abbiamo bisogno di dati per gestire senza dati ci sono dei preconcetti delle opinioni non delle idee e delle verifiche con delle ipotesi è una cosa che diciamo sappiamo tutti da anni anche la politica se ne accorta la Commissione Europea ha chiesto all'EFSA nel 2015 dopo il focolaio di peste suina o meglio dopo l'espansione del focolaio di peste suina nel cinghiale nei paesi baltici di iniziare a raccogliere i dati sulla distribuzione delle popolazioni di animali selvatici l'EFSA nel 2016 ha fatto questo tender questa call che è stato vinto appunto da questo consorzio sono 14 enti di ricerca che rappresentano tutti i paesi europei e Ined Wild nasce proprio per armonizzare la raccolta di dati la raccolta di informazioni ma il fine anche poi della gestione nei selvatici quindi perché proprio perché il mondo sta cambiando fra i vari problemi c'è anche l'emergenza dei patogeni oggi è più chiaro spiegarlo a tutti dopo Covid-19 però era un problema che era già abbastanza emergente il problema è che noi non abbiamo dei dati non sappiamo quanti animali ci sono dove sono e bisogna completare questa raccolta di dati e soprattutto bisogna fare una cosa a cui normalmente non siamo abituati cioè pensare di lavorare assieme e di condividere i dati anche perché buona parte dei dati vengono raccolti con dei fondi pubblici ed è bene che quindi i dati siano disponibili a tutto e quando parliamo del rapporto ospite-parassita come dicevamo prima noi siamo chiaramente concentrati sulla malattia sul patogeno e abbiamo pochissimi dati e questa era la parte da portare avanti una parte in cui noi partecipiamo in parte scusatemi il bisticcio ma perché non è il mio mestiere io sono comunque un veterinario non un biologo ma dobbiamo comunque esserci per capire come funziona soprattutto per dire quali dati servono e come raccoglierli e quindi l'idea di mettere assieme tutto questo come armonizzando la raccolta di dati quindi creando un network e creando un repository di data che sia in open access quindi dicendo alla gente tu mi dai dati che non sono miei non li tengo io ma i dati verranno messi in una banca dati che è disponibile che chiunque può non solo verificare controllare ma anche utilizzare per le proprie ricerche e questo aveva l'obiettivo in fin dei conti l'EFSA ha questo mandato sanitario di permettere proprio di arrivare a valutare meglio quali sono i rischi per le malattie emergenti e soprattutto non solo con le malattie di sanità pubblica ma anche con un interesse a quella che è la conservazione della fauna perché comunque gestire la patologia della fauna e gestire la biodiversità o viceversa perché le due sono fortemente correlate quindi che cosa è stato fatto in questi sei anni perché ormai il progetto è praticamente finito sono stati messi a punto tutta una serie e validati tutta una serie di metodi per stimare valutare la densità l'abbondanza delle popolazioni di animali selvatici sono stati raccolti i dati e banalmente piccola polemica il paese più balcanizzato d'Europa non si trova nei Balcani ma è l'Italia dove da molte zone non si è riusciti a avere i dati e vedete che i dati sono estremamente frastornati si raccolgono in modo diverso abbiamo l'ISPRA ma banalmente l'ISPRA ha chiesto a noi i dati sulla distribuzione del cinghiale perché lei non li ha quindi questo ci dà l'idea di come diventa praticamente impossibile gestire una cosa se non hai neanche questo dato minimo e questo ha permesso di sviluppare dei modelli spaziali su quella che può essere la distribuzione degli animali arrivando a scale sempre più ridotte perché per esempio oramai sul cinghiale aveva fatto vedere prima Joachim siamo a scale con una griglia di 2x2 km che è una risoluzione spaziale che è più che adeguata per i nostri scopi anche perché andare oltre non avrebbe più tanto senso per il movimento degli animali inizialmente ci si è concentrati sul cinghiale perché c'era l'emergenza peste suina ma si è andata avanti e si è fatto un po' per tutti gli altri grossi ungulati europei e si sta lavorando ovviamente anche sulle altre specie in parallelo quello che si è detto è si parla tanto di condivisione di coinvolgimento della popolazione di comunicazione e quindi è stato attivato il progetto Mammalnet cioè questo progetto che ha l'obiettivo di coinvolgere i cittadini perché perché all'interno di questo progetto sono stati sviluppati una serie di strumenti da una semplice app per il telefono che permette di fare la foto a un animale e quindi la foto viene inviata ad un collega che verifica conferma e a quel punto viene inserita nel GIF quindi in un database pubblico può funzionare per gli animali vivi appunto ai mammaglia può funzionare anche per per le carcasse banalmente è stata utilizzata o meglio viene utilizzata in molti paesi dell'est Europa per il monitoraggio della peste suina africana in Italia non ha funzionato cioè non si è voluta invece utilizzarla sono stati messi a punto tutta una serie di strumenti che hanno permesso anche di creare come gemello del progetto INEDWAL sempre all'interno però di INEDWAL l'osservatorio europeo della fauna selvatica che ha coinvolto tutti i colleghi INEDWAL e che oramai quest'anno è stato espanso in 22 paesi non solo dell'Unione europea ma anche nei paesi vicini in quelli che aspirano ad entrare all'interno dell'Unione europea quindi creare un sistema comune di raccolta ma qual è l'obiettivo di questo? E creare dei network creare delle occasioni di confronto di discussione di formazione quindi soprattutto per coinvolgere i colleghi dell'est Europa sono stati fatti poi il covid ha interrotto dei workshop in presenza e sono stati fatti poi durante l'epoca covid dei corsi dei workshop a distanza proprio anche di formazione sui metodi da utilizzare proprio per stimare la densità degli animali sono stati messi a punto dei sistemi come per esempio quello dell'uso delle camera traps che magari avete già di cui avete sentito parlare in questi giorni quello su cui si sta lavorando è su Aguti un programma per cui chiunque appassionato mette una fototrappola può scaricare le immagini sul sito e quello che stanno cercando di sviluppare i colleghi belgi è un sistema che ci permette di arrivare ad avere i dati del REM senza doversi metterli manualmente a fare i conti del tempo della distanza che percorrono gli animali ma un sistema automatizzato intelligenza artificiale per cui il sistema automaticamente calcola la velocità di spostamento degli animali metri percorsi e ridà il dato che a noi serve per calcolare la densità degli animali perché è importante avere i dati degli animali perché come già vi diceva Joaquin posso a quel punto lavorare sull'interfaccia domestico selvatico loro lo hanno fatto a casa loro in Spagna ma posso farlo anche in Europa per tutta una serie di animali abbiamo un progetto nei paesi europei proprio per lavorare per arrivare a determinare meglio quali devono essere le caratteristiche di biosicurezza per ridurre il più possibile la possibilità di contatto fra cinghiali e suini domestici quando questi sono allevati in modo semi-intensivo o estensivo banalmente immaginatevi arriva la peste suina in Italia non c'è possibilità di avere dei dati in realtà noi avevamo abbiamo la mappa con la distribuzione e l'abbondanza dei cinghiali sulla griglia che vi dicevo di 2x2 chilometri utile da un punto di vista gestionale perché ci posso sovrapporre gli allevamenti per comune ci posso sovrapporre il numero di maiali per comune quindi magari pensare a individuare qual è l'area a maggior rischio dove devo intervenire è chiaro che se devo pensare di piazzare una recinzione per evitare la trasmissione ai domestici non la vado a piazzare da questa parte ma la vado a piazzare da questa parte dove c'è il maggior numero di cinghiali ma soprattutto ci sono 1.200.000 suini avendo questo dato riesco anche a sviluppare dei modelli che mi permettano di immaginare come si può diffondere il focolaio proprio basato sulla contiguità e sulla densità degli animali che sono presenti nelle varie zone e il primo modello qua non si legge bene ma è 8 gennaio perché il primo caso è stato segnalato ufficialmente il 7 sviluppammo questo modello lo mandammo e devo dire che poi tutti i casi successivi hanno perfettamente confermato quello che il modello aveva previsto avete visto l'altro ieri un altro utilizzo molto più pratico molto più utile per noi c'è la possibilità di andare a correlare poi effettivamente quella che può essere la relazione fra la presenza di animali selvatici la loro densità e la loro concentrazione sul territorio e la presenza di zecche o per esempio patogeni da zecca quindi anche qua uno strumento estremamente utile soprattutto nel momento in cui poi riesco a ottenere il dato del REM in maniera automatica perché c'è un sistema di intelligenza artificiale che me lo produce Maia ieri parlava del focolaio di les magnosi di Fuenlabrada è una cosa di cui non si è sentito parlare per nulla in Europa io continuo a dire è una cosa drammatica se pensiamo che Fuenlabrada è a 20 chilometri neanche da Plaza del Sol dal centro di Madrid e ad oggi sono più di mille i casi umani in quell'area e quell'area vuol dire quest'area quindi un chilometro per sei chilometri immaginatevi in queste due aree più di mille casi di les magnosi in poco più di dieci anni è incredibile è una roba che ci potevano dire favela sud del Sudan e invece è successo in Europa nella sesta metropoli europea ed è successo perché noi non ci abbiamo mai pensato e in realtà l'importanza di avere i dati sugli animali è grande perché non è che è nata Fuenlabrada nel 2012 l'interazione fra lepri e le ismania è una roba che c'era già prima perché dal 2004 al 2010 queste sono le lepri positivi la prevalenza per le ismania nelle lepri in tutte le aree geografiche della Spagna inclusa l'area settentrionale dove le ismania nei lupi e nelle lepri ha preceduto di dieci anni il problema emergente della leismagnosi nel cane e quindi nel domestico quindi anche qua l'importanza sempre maggiore che stiamo capendo possono avere i selvatici in tutta una serie di patogeni fino adesso è una cosa soprattutto di tipo biologico ma in realtà Inuit Wild nasce con l'idea di raccogliamo i dati per trasportarli sulla parte sanitaria sulla sorveglianza sul monitoraggio e quindi quest'anno abbiamo organizzato un workshop proprio destinato a creare un sistema di sorveglianza e di monitoraggio in Europa che sia armonizzato e devo dire mi ha fiato piacere perché vi garantisco che non c'è stato un bias più di tanto personale questa è la lista dei patogeni emergenti e se guardate i parassiti sono molto ben rappresentati a partire da toxoplasma leismania telazia e chinococco tutte le malattie zecche tutte le malattie trasmesse da zecche malaria non tanto per l'uomo ma per le specie aviari sarcocisti salaria neospora quindi iniziamo a fare presente una cosa molto importante che è una cosa che Peppino Cringoli qua ho messo 99 2000 e 22 perché è una cosa che mi ha insegnato in tutti questi anni e anche ancora ripetuto all'inizio di questo congresso è la legge che fa la malattia cioè se non c'è una legge che parla della malattia diventa importante che questa malattia abbia veramente una rilevanza poi pratica sul territorio e questo mi fa piacere perché perché la commissione europea ha chiesto all'ESA di mettere in piedi un sistema di monitoraggio e sorveglianza per le patologie della fauna selvatica e questo credo sarà uno degli ultimi compiti che verranno assegnati al nostro consorzio abbiamo già fatto una literature review su quali sono gli strumenti per individuare un ranking tools per i patogeni per la fauna selvatica stiamo lavorando a un questionario per creare per mappare quelle che sono le attività esistenti e devo dire in questo verranno mappate soprattutto non solo le attività fra virgolette ufficiali ma tutta quelle serie di attività non ufficiali che spesso sono svolte dall'accademia perché in molti paesi l'accademia non è ufficialmente coinvolta proprio perché appartiene a un ministero che sia quello della sanità o quello dell'agricoltura che è diverso da quello che è poi incaricato formalmente ufficialmente della sorveglianza selvatica quindi se avete tempo potete sicuramente guardarvi il sito come vi dicevo è un sistema aperto perché è un sistema pagato con soldi pubblici un sistema di tutti non è un sistema di un gruppo di persone ma è un sistema che parte forse da un gruppo di persone perché comunque ci va qualcuno all'inizio che si unisca per far partire il tutto ma che poi vuole essere il sistema perché come continuo a ripetere la sorveglianza non è un progetto la sorveglianza è un sistema quindi sul sito ci sono tutta una serie di documenti i report che vengono puntualmente prodotti e ringrazio voi per l'attenzione ma soprattutto tutti i colleghi che sono tantissimi che in questi sei anni hanno lavorato con noi con cui abbiamo collaborato e con cui spero di riuscire a continuare a lavorare anzi spero che il gruppo possa veramente ad aumentare e possa essere un esempio che dalla parassitologia dalla fauna selvatica che comunque è sempre stata legata alla parassitologia arrivi poi a coinvolgere anche altre realtà grazie per l'attenzione ringrazio ringrazio Ezio e apro la discussione se c'è qualche domanda per Ezio prego ma più che una domanda una proposta probabilmente Stefano Gavaudan istituto di confilati con ombre e marche bisogna trovare su determinate popolazioni animali qual è il momento chiave per andare a fare il conteggio e come farlo ad esempio Fricchinella nel cinghiale è un ottimo sistema perché a livello europeo c'è un'obbligatorietà del controllo su quella si può imperniare il censimento sì della popolazione cacciata morta ma su quella poi aprire le stime sul vivo questo ad esempio nell'ottica del controllo delle patologie del cinghiale mi sembra assolutamente importante sì tant'è che banalmente in Italia da alcune aree siamo riusciti ad avere i dati degli animali cacciati non dall'assessorato caccia competente che o non li aveva o non voleva compartirli ma dai dati degli animali analizzati dall'istituto zooprofilattico competente del territorio quindi per esempio per molte zone il numero di cinghiali abbattuto che abbiamo utilizzato per creare il modello deriva da dati che arrivano dalla sanità e non dall'assessorato competente perché o non ce li aveva o non li dava quindi questo è veramente un esempio in cui la medicina veterinaria in cui la sanità pubblica perché per me esiste la sanità pubblica non esiste la medicina veterinaria può dimostrare agli altri che è capace di giocare in ruoli diversi che però è capace di stare al suo ruolo e di confrontarsi con gli altri e di portare un qualche cosa che è comunque un plus perché a loro noi abbiamo portato un numero di animali che loro stessi non avevano lo stesso Ispra che chiede a noi i dati e la distribuzione del cinghiale in Europa evidentemente è un segno del fatto che forse la parte sanitaria in qualche modo riesce a essere più pratica e più capace se vogliamo una parola brutta ma nel raccogliere i dati nel portare a casa il risultato che poi è a disposizione di tutti perché appunto il dato poi serve a tutti perfettamente d'accordo quindi probabilmente anche su alcune popolazioni di carnivori il lupo su alcuni ungulati il capriolo forse il movente sanitario può essere un valore aggiunto che va appunto al di là della finalità strettamente sanitaria su questo bisogna fare sicuramente una riflessione credo nei prossimi anni sì anche perché appunto se guardate quell'elenco poi io non posso garantire che sarà quello che approverà la Commissione Europea perché c'è poi un gruppo di esperti dell'ESSA in cui noi saremo solo una parte perché porteremo il lavoro fatto di valutazione della bibliografia ma in quello la parte parassitologica gioca un ruolo importante ma non perché sono parassitologo e voglio portare a casa il risultato ma perché di nuovo la parte parassitologica è quella che rappresenta meglio la complessità dell'ambiente e quelle che sono le interazioni dell'ambiente perché c'hai tutti gli ospiti intermedia e l'interazione fra le diverse specie la parte esogena dei cicli dei parassiti che anche quando sono a vita diretta sono molto più influenzati dalle componenti ambientali rispetto a virus e batteri tendenzialmente quindi veramente noi abbiamo un problema perché è più difficile fare il parassitologo forse perché è più complicato è più difficile capirlo però abbiamo questa grande fortuna avendo questa capacità se riusciamo a trasmetterla agli altri potremmo veramente far sì che si crei un sistema che sia un sistema migliore e che ci permetta meglio di capire che cosa sta succedendo ma soprattutto di dominarlo perché stiamo vedendo quello che succede con la peste suina africana i costi che continuo a ripetere sono enormi perché si è inciso sullo 0,78% del pil cinese noi tutti gli anni stiamo a a piangere per una manovrina da 40 milioni ma 40 milioni fa ridere rispetto allo 0,1% del nostro pil quindi pensare che una banale patologia dico banale per ridere ci costi l'1% del pil e che noi non abbiamo gli strumenti o magari quando ce li abbiamo non abbiamo voglia non siamo capaci a lavorare insieme a utilizzarli come cittadino mi fa un pochettino imbestialire perché poi quando hai qualcuno che va al pronto soccorso sai che ci sta 5 ore in attesa perché non è un codice rosso ed è solo un codice giallo e c'è un medico solo e quindi giustamente soccorre prima l'infartuato o aspetti 8 mesi perché ti facciano una radiografia al polmone e un 85enne che non riesce a respirare bene sì in effetti la raccolta del dato ricollegandomi a quanto diceva Stefano voi degli istituti soprofilattici ce l'avete tant'è vero che in campagna noi abbiamo potuto dare dati all'Enet Wild grazie alla collaborazione con l'istituto soprofilattico del mezzogiorno probabilmente Ezio potremmo anche farci promotori di armonizzare la raccolta del dato sui carnieri del cinghiale almeno per per inquadrare praticamente la problematica in Italia mi trovo in difficoltà io non vado a dire agli altri che cosa devono fare il ministero della salute che se vuole chiede il ministero della salute l'otto mattina ha ricevuto le mappe con tutto quello che era disponibile ma era già stato invitato quando c'era la presentazione del progetto alle conferenze stampa quindi noi siamo perfettamente disponibili se chi di competenza vuole ma credo che ci sia anche una diciamo poca connessione tra le istituzioni il dato c'è ma molte volte non viene reso fruibile questo è un problema frequente ma sulla fauna selvatica forse ancora di più sì forse è un osso troppo grande per i miei denti non sono forse la persona più adatta però sempre disponibile a provare a confrontarsi anzi ben vengo grazie Ezio a questo punto finiva la discussione cioè a me non pesa assolutamente mi fermo anche fino alle 2 vorrei che fosse chiaro questo però siamo stati istruiti in tal senso ora il dottor Sgroi ci parlerà del contributo della scienza dei cittadini nell'ambito della gestione sanitaria della fauna e delle zonosi e benvenuto grazie 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 dell'invito prima di tutto buongiorno a tutti sono Giovanni Sgroi sono dottorando al terzo anno in sanità animale e zonosi presso l'università di studi di Bari e colgo l'occasione per agganciarmi immediatamente a quello che diceva il prof Ferroio che in effetti quando parliamo di fauna selvatica ci troviamo di fronte a diversi problemi uno di questi per esempio è rappresentato dal fatto di avere i dati innanzitutto e poi anche di comunicarli eventualmente però intanto li dobbiamo avere e una delle cose che mi è piaciuta di più e che ho sentito varie volte nel corso di questa bella discussione è il fatto che uno degli strumenti che noi oggi abbiamo a disposizione per ottenere questi dati è quello di coinvolgere i cittadini che tra l'altro poi ha anche tutta una serie di benefici supplementari che poi magari dopo vedremo e quindi io vorrei cercare di convincervi in questi 20 minuti e proverò di meno sul fatto che oggi la citizen science e quindi il coinvolgimento dei cittadini può essere uno strumento effettivamente efficace per gestire per esempio le zoonosi parassitarie zoonosi parassitarie in cui non entro nello specifico e nemmeno per quanto riguarda l'interfaccia tra le diverse zoonosi e specie animali domestiche e l'uomo selvatiche e l'uomo ricordandoci semplicemente che stiamo parlando di un gruppo molto ampio di malattie perché vedete sono causate da agenti virali batterici fungini parassitari e si va da malattie che sono trasmessi da ectoparassiti da vettori artropodi come le zecche fino alle cosiddette foodborne diseases quindi in questo caso quelle trasmesse dalle carni o comunque da alimenti di origine animale sappiamo anche questo dato ci sconvolge che il 70% circa secondo le stime di quelle che sono le zoonosi e quindi interessano l'uomo originano proprio dai selvatici e ultimamente la situazione non ci fa ben sperare perché secondo anche quelle che sono le stime i dati quello che c'è a disposizione che abbiamo visto anche tramite Enet Wild diciamo che c'è un aumento sostanziale di diverse specie selvatiche in modo particolare mammiferi sinantropici perché hanno di fatto instaurato con l'ambiente urbano e con l'uomo una vera e propria relazione spesso di conflittualità e tra l'altro sappiamo anche che nella recente pandemia negli ultimi due anni il fatto che ci sia stato il lockdown in molte aree geografiche probabilmente ha comportato una maggiore diffusione da parte delle specie selvatiche perché hanno trovato sostanzialmente davanti a loro strada libera per potersi diffondere questo è l'esempio che potremmo fare del cinghiale ma lo stesso può valere per le volpi per i tassi per altre specie selvatiche quindi una situazione diciamo abbastanza drammatica e l'abbiamo sviscerata a lungo nel corso delle precedenti relazioni tuttavia però in questa catastrofe tra virgolette vi dicevo abbiamo la citizen science e cioè il coinvolgimento dei cittadini dall'elettricista al portinaio all'avvocato al cacciatore come vedremo spesso nel fornire dei dati e quindi nella raccolta e nell'analisi di dati che hanno una rivelanza scientifica e quindi qual è il fine della citizen science quello di creare un network di creare una rete nella quale abbiamo a disposizione questi dati ricevuti dai cittadini questi dati vengono in qualche modo poi restituiti al cittadino attraverso quello che è il risultato ottenuto dal dato scientifico e grazie al coinvolgimento del cittadino è possibile ottenere spesso e volentieri dati su ampia scala in poco tempo e da diverse aree geografiche e con diciamo delle attività che sono da un punto di vista costo beneficio anche particolarmente favorevoli io qui ho iniziato giusto con alcuni esempi pratici di come la citizen science ponga tra virgolette un rimedio in termini di management per quanto riguarda il controllo delle zonosi parassidari qui per esempio uno studio dalla Svezia dove i lavoratori forestali soprattutto sono stati coinvolti nella raccolta di carcasse di volpi rosse e quindi questi andavano sostanzialmente nelle aree rurali dove trovavano queste carcasse naturalmente le carcasse venivano consegnate alle autorità competenti che poi attraverso anche le università hanno potuto risalire al fatto che ci fosse un'alta prevalenza di Echinococcus multiloculares e quindi automaticamente anche un elevato rischio per i lavoratori forestali o comunque per coloro che frequentavano quelle aree rurali per esempio questo studio ha anche permesso per esempio di trovare per la prima volta la presenza di questo cestode zonosico nel paese ma ancora per esempio se parliamo di censimenti uno studio interessante fatto nella UK in un periodo relativamente recente si è focalizzato si è posta la domanda di dire ma in effetti io posso far fare i censimenti dai cittadini ottenendo un dato che sia grossomodo qualitativamente sovrapponibile a quello che ottengo con metodi tradizionali di censimento dei selvatici ovvero per esempio il fototrappolaggio di cui si parlava prima o anche la telemetria questo studio ci ha detto di sì in effetti cioè ci ha detto che commissariando tra virgolette a semplici cittadini a livello di diversi soborghi urbani delle città della Gran Bretagna il compito appunto commissariando il compito di esercitare degli avvistamenti e di riportare poi in maniera specifica questi avvistamenti sostanzialmente si riesce a ricavare la densità la distribuzione di questi selvatici nelle aree urbane e in questo studio i valori di densità che erano stati prodotti dai cittadini innanzitutto allarmavano perché erano all'incirca del doppio rispetto a quelli che erano stati registrati dieci anni prima secondo i metodi tradizionali ma soprattutto indicavano il fatto che i censimenti operati dai cittadini potessero essere un modo un metodo diciamo alternativo a quelli tradizionali e qui vorrei anche portarvi invece quella che è l'esperienza che con l'università di Bari ma anche con l'università di Napoli e di Messina abbiamo cercato di applicare partendo dai diversi esempi in letteratura e abbiamo cercato di capire se potessimo operare il monitoraggio delle zecche e dei patogeni trasmessi dalle zecche attraverso l'ausilio proprio dei cittadini e nello specifico che cosa abbiamo fatto semplicemente abbiamo armato i cacciatori di una pinzetta di un barattolino per la raccolta delle feci naturalmente i cacciatori erano seguiti in campo attraverso medici veterinari che comunque seguivano quelli che erano i processi di campionamento naturalmente i cacciatori erano informati durante l'attività di caccia su quelli che erano i rischi legati all'infestazione da zecche e quindi quali comportamenti adottare in campo come rimuovere le zecche e i cacciatori avevano sostanzialmente il compito di rimuovere le zecche da se stessi e dai cani da caccia consegnarli attraverso i medici veterinari all'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno e a quel punto potevamo quindi avere le matrici biologiche da poter fare un'identificazione morfologica e una ricerca diretta di DNA di diversi agenti patogeni e quello che è emerso come vedete è che innanzitutto abbiamo così potuto ottenere su un territorio piuttosto ampio perché parliamo di tutto il sud Italia praticamente continentale e insulare i dati circa la circolazione delle diverse specie di zecche che infestavano sia il cacciatore durante l'attività di caccia ma anche il cane da caccia stesso ovviamente c'è una distribuzione diversa diciamo delle diverse specie di zecche sull'uomo e sul cane in termini anche numerici vi dico che comunque la stragrande maggioranza era rappresentata dalle specie che vedete qua quindi Xodes ericinus dermacentor marginatus e ripicefalus turanicus e sanguineus sensulato e quindi innanzitutto grazie proprio all'attività dei cacciatori abbiamo potuto fare una fotografia di quella che fosse la distribuzione delle zecche e il livello diciamo di infestazione sia per il cacciatore sia per il cane da caccia in tutto il sud Italia abbiamo potuto capire che la zecca che più di tutte in qualche modo infestava non solo il cacciatore ma anche il cane era in effetti la stessa che circolava nelle aree di caccia al cinghiale ovvero dermacentor marginatus un alto livello di infestazione è emerso da questo studio perché praticamente su tutti i cacciatori coinvolti che erano circa 400 soggetti circa il 10% aveva riportato almeno un'infestazione da zecca durante la propria attività in campo e un cane su due praticamente era stato infestato almeno una volta allo stesso tempo il fatto che ci fosse un elevato rischio di infezione o comunque un'elevata circolazione di agenti patogeni trasmessi da zecca come in questo caso Borrelia Lusitanie Coxiella Burneti e Ricchezze Raulti perché praticamente l'11% di tutte le zecche raccolte dal cane così come dall'uomo risultavano positive per almeno uno di questi patogeni zoonosici e quindi questo studio in qualche modo ci ha diciamo detto ci ha indicato che il coinvolgimento in questo caso dei cacciatori può essere un utile strumento non soltanto come abbiamo visto eventualmente per un discorso di censimento di selvatici ma anche per poter fornire dati che sono dati di interesse di sanità pubblica legate appunto alla circolazione di zecche in questo caso e di zoonosi parassitari ma non soltanto zecche e tick borrpatogen ma anche le malattie trasmesse da alimenti di origine animale a carattere zoonosico e in questo senso vi voglio portare questa esperienza che abbiamo fatto unicamente in regione campania in alcune aree di caccia coinvolgendo sempre i cacciatori in uno studio in cui i cacciatori venivano coinvolti durante chiaramente sempre l'attività venatoria nel raccogliere il massedere dai cinghiali quindi nel momento in cui loro abbattevano il capo mettevano da parte una minima quantità 5 grammi di massedere in un barattolino in questo studio sono stati raccolti 338 animali e poi una parte di diciamo di quelli che erano i muscoli ottenuti venivano anche utilizzati per la preparazione di salumi in modo particolare salsicce e in questo senso abbiamo raccolto 48 unità una volta che queste erano state raccolte sempre grazie ai veterinari di campo venivano fornite le matrici all'istituto zooprofilattico e anche all'università in maniera tale da poter fare una ricerca diretta di toxoplasma goni che come abbiamo detto prima è considerato anche emergenziale un patogeno emergente per quanto riguarda diverse specie selvatiche ecco la cosa che è emersa da questo studio è che circa il 40% di tutti i cinghiali masseteri che avevamo ottenuti risultavano positivi a dna del protozoo e che più del 30% di tutti i salumi preparati risultavano anch'essi positivi seppure solo a livello diciamo molecolare naturalmente da qui che cosa salta fuori salta fuori un elevato rischio per il consumatore considerando che diciamo questi salumi vengono immessi normalmente sul mercato anche locale pensiamo per esempio alle sagre banalmente e quindi naturalmente è emerso da un lato un rischio elevato per il consumatore è emersa una fotografia di quella che era la circolazione di toxoplasma gondi nella specie selvatica e dall'altro lato è emerso il fatto che coinvolgere ancora una volta il cacciatore in questo caso comunque i cittadini nel fornire e nel raccogliere dati ha una effettiva efficacia ancora da un punto di vista di determinazione della qualità ambientale lo strumento della citizen science può essere efficace come in questo caso per esempio dove abbiamo voluto raccogliere stesso da parte del cacciatore naturalmente ancora una volta le feci di cinghiali che venivano abbattuti durante le regolari annate venatorie e quindi nell'ambito della normale attività di abbattimento che cosa succedeva i cacciatori venivano riforniti semplicemente di un bisturi monouso di un tampone e quindi potevano andare a fare una piccola incisione a livello del cieco e raccogliere il tampone il più possibile in sterilità e consegnare sostanzialmente poi queste feci che venivano diciamo testate per la ricerca di diversi agenti fungini la cosa interessante qui che è emersa è che praticamente ovviamente diciamo un cinghiale sul due albergava almeno una specie di funghi che sono esogeni a carattere zoonosico come candida crusei candida lusitanie e guillermondi la stragrande maggioranza era rappresentata in ogni caso da candida albicans e questo ha indicato innanzitutto il ruolo potenziale del cinghiale come reservoir e al tempo stesso anche di sentinella praticamente per per queste specie ma l'altro aspetto interessante era il basso livello sostanzialmente di resistenza ai normali antitriptogrammici normalmente a basso di azzolo che inducono una certa resistenza nei confronti di questi funghi che siccome però appunto mostravano un basso livello di resistenza ci hanno in qualche modo indicato una qualità ambientale nel senso una scarsa contaminazione scarso inquinamento da parte di questi farmaci e quindi in questo senso può essere un utile strumento anche per determinare la qualità ambientale e quindi andando a riassumere perché è importante la citizen science perché la possiamo applicare per il controllo di zonosi parassitarie oltre che per la diffusione delle specie selvatiche in un gruppo molto ampio di malattie che vanno dalle vettoriali alle foodborne è uno strumento che consente anche di fare educazione sanitaria perché naturalmente il cacciatore che va in campo e che è a contatto con le zecche e viene informato sui rischi legati alla sua pratica venatoria naturalmente ci consente di portare anche educazione sanitaria è uno strumento in qualche modo anche della social economy tra virgolette perché in qualche modo ci permette di risparmiare in quello che è normalmente legato ai costi del campionamento nel momento in cui noi abbiamo schiere di cittadini che sostanzialmente possono eseguire i campionamenti abbiamo la possibilità anche di diciamo risparmiare su quelli che sono appunto i fondi normalmente legati all'attività di campionamento abbiamo la possibilità di ottenere dati su ampia scala perché naturalmente possiamo ottenere un grosso numero di campioni da aree geografiche anche molto diverse tra di loro e nel giro di poco tempo e quindi tutti questi fattori insieme in qualche modo ci indicano che la strada da seguire è quella di cercare di aumentare quello che è il coinvolgimento e il riclutamento da parte dei cittadini nelle attività di Citizen Science nei progetti Citizen Science io a questo punto vorrei ringraziare prima di tutto tutti i cittadini che hanno permesso praticamente la raccolta delle matrici biologiche che hanno voluto partecipare ai progetti mettendosi in campo e poi naturalmente l'Università di Bari l'Università di Napoli l'Istituto Zoprofilattico con i quali abbiamo cercato diciamo di portare avanti questo questo concetto grazie abbiamo tempo mi dispiace per l'ultimo redattore ma succede sempre gli ultimi fate una ragione per una domanda sola eccola perché le undici e mezza ci sono degli altri io volevo chiederti relativamente a come hai fatto ad ottenere la compliance di tutti questi cittadini o dei cacciatori perché non è sicuramente molto molto facile noi abbiamo girato centri di caccia per insegnare ai cacciatori come raccogliere il materiale poi spesso ti trovavi magari l'omaso al posto dell'abomaso e così via quindi diciamo che c'è una ci deve essere proprio una compenetrazione tra ricercatori e cittadini per poterli portare su questa strada e ottenere risultati che avete avuto quindi è andato tutto liscio poi nella realtà avete avuto delle difficoltà questa e poi un'altra cosa perché io non ho avuto modo in precedenza di seguire la relazione su toxoplasma pensi che quelle prevalenze che avete trovato che tra l'altro sono non sierologiche ma di PCR sono effettivamente consistenti pensi che il rischio sia effettivamente elevato inattivato nel senso che io non so come vengono prodotti questi salami nella vostra zona e quindi potrebbe essere inattivato visto che mi pare di che non abbiate fatto poi la prova in vivo perché non è facile da fare quindi valutare effettivamente il rischio non è cosa facile grazie sì allora intanto grazie mille per le domande parto dalla prima come abbiamo fatto allora intanto non è stato tutto liscio non ha fatto e la cosa più difficile è proprio questa cioè cercare di coinvolgere cercare di fare numero e soprattutto assicurarsi della qualità tra virgolette di quelli che sono poi i campionamenti e tutte le fasi che servono per poter reclutare questi dati come abbiamo fatto? Abbiamo fatto essenzialmente attraverso le associazioni venatorie nel senso che è prevista che la caccia abbia una serie di associazioni che non sto ad elencare però insomma ce ne sono molte che naturalmente pubblicizzano diciamo tutta una serie di eventi e che fanno in qualche modo da link da contatto tra per esempio il mondo delle università delle IZS diciamo il mondo scientifico e il cittadino in questo caso il cacciatore per cui ci sono stati dei corsi di formazione che abbiamo potuto svolgere corsi di formazione che prendono il nome di cacciatore formato sono stati finanziati dall'Unione Europea e dalla regione Campania soprattutto e hanno consentito praticamente di andare a fare delle attività sia diciamo didattiche frontali teoriche ma anche pratiche su come diciamo effettivamente stare in campo e viscerare la carcassa in sicurezza rimuovere la zecca in sicurezza e quant'altro scusami Giovanni volevo giusto dire Mare Teresa quello che dice Giovanni non so se si sente noi in regione Campania abbiamo creato una figura che è obbligatoria per iscriverti alla squadra di caccia al cinghiale cioè in regione Campania non vai a caccia se non hai almeno un cacciatore formato in squadra è stato un lavoro di team che è durato e dura da dieci anni dove l'università da sola non andava da nessuna parte ma con le ASL perché c'è il veterinario delle ASL a fare la formazione del cacciatore lo zoprofilattico e l'università è una cosa complessa però però non è sì 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 Giovanni scusa anzi grazie per quanto riguarda la seconda invece per toxoplasma io penso che il rischio ci sia per due motivi essenzialmente il primo è l'elevata prevalenza sebbene solo molecolare il secondo è il fatto che andando a sequenziare questi ritrovamenti sostanzialmente abbiamo trovato per la stragrande maggioranza ceppi atipici che normalmente sappiamo in letteratura insieme al genotipo 1 sono quelli diciamo più potenzialmente patogeni tuttavia c'è da dire che come vengono prodotti questi salami cioè spesso e volentieri vengono mischiati ovviamente con il suino quindi molti cacciatori utilizzano poi i propri suini domestici mischiando queste carni per cui noi in realtà non sappiamo se poi toxoplasma viene dal suino o viene per esempio dal cinghiale naturalmente noi quello che abbiamo fatto perché quello potevamo fare è stato di dire c'è questa elevata prevalenza c'è questo rischio naturalmente per persone immunocompromesse e quindi abbiamo consegnato loro un vademecum quello del CDC che ci permetteva di dargli una linea guida diciamo generale sulla toxoplasmosi li abbiamo informati di questi ritrovamenti e non abbiamo potuto andare oltre perché non abbiamo ovviamente competenza come nel caso non so di trichinella e quindi mandare la carcassa a distruzione in questo caso non è consentito non è previsto per cui noi potevamo soltanto segnalare questo dato e sostanzialmente questo grazie a lei grazie siamo giunti alla fine di questo simposio che per me è sicuramente l'ultimo che presiedo per le giorni anagrafiche mi ringrazio per la vostra attenzione negli anni che ho trascorso i vari congressi della nostra società ho sempre apprezzato molto i moderatori che alla fine del simposio non impiegavano molto tempo a liberare i presenti e dalla loro presenza in aula quindi sarò sicuramente breve la prima cosa che voglio dire è che mi compiaccio del fatto che 40 anni fa quando iniziai a occuparmi di parassiti di fauna selvatica mi aiutavano ci aiutavano i cacciatori oggi ci aiutano i cittadini della scienza che poi in parole povere restano sempre soltanto i cacciatori mi sembra di aver capito un ringraziamento a chi ha parlato a tutti perché hanno fatto delle bellissime relazioni e devo dire che con molto piacere ho sentito una volta solo usare One Health e questo mi ha scaldato il cuore e un consiglio per chi verrà per i giovani se organizzate come ha fatto l'amico Vincenzo un simposio come questo non fatelo la mattina dopo la cena sociale perché stamattina alle 9 io ero veramente preoccupato eravate 5 o 6 poi poco per volta la cena sociale ha smesso di fare i suoi effetti e siete arrivati numerosi attenti di questo vi ringrazio buon pomeriggio grazie a tutti grazie